Buonasera, ben trovati l'appuntamento del martedì sera in rigorosa diretta 19 30 20 30 con l'appuntamento il sindaco risponde, vi do già i numeri di telefono per interagire con noi, per le telefonate 049 80 777 53 per i messaggi 345 334 1171, per l'email il sindaco risponde chiocciolagruppotv7.com e come di consueto vi ricordo che siamo anche in diretta sulla pagina facebook, nella piattaforma ovviamente andando nella pagina di Air Reporter potete anche rifare delle domande al sindaco e questa sera l'abbiamo proprio in studio, buonasera sindaco, ben trovato, nelle ultime puntate ho avuto il vice sindaco perché so che lei era molto impegnato e quindi la prima domanda di consueto le chiedo come va, fantastico, benissimo, io delle volte non so, non costa niente essere positivo, io sono positivo, la positività è una bella cosa, immagino con tutti gli impegni che un sindaco ha in una città importante come Padova essere positivo è un bel segnale però comunque da quando la conosco dice sempre va tutto bene io vivo bene, sono felice, sereno, ho una grande famiglia, ho chi mi aiuta, chi mi vuole bene faccio un lavoro sprendido, molto impegnativo ma sprendido no è un bel disco così, allora così ma è vero no ma le domando, c'è qualcuno che non le vuole bene, lei a qualcuno, c'è stato nella sua vita a qualcuno, siccome che io non voglio bene a qualcuno lei vuole male a qualcuno, qualcuno che l'ha fatto arrabbiare nella vita no, arrabbiare sì, ma che io voglio male a qualcuno non esiste non c'è nessuno che vuole male ma penso che no male, è sbagliata anche questa affermazione penso che nessuno vuole, sarà con me, francamente sono veramente circondato da affetto ma veramente, parlo seriamente vivo, me ne asserisco, è impegnativo quello che faccio però mi piace, sono fortunato ho veramente delle condizioni che per me ritengo positive ogni volta che riesco a risolvere qualche problema con l'aiuto di tutti, io sono sereno e felice faccio una cosa splendida è un onore incredibile fare il signo di questa città vuol dire vedere cose che si riescono a fare per carità, anche qualche errore però è una cosa che mai avrei pensato nella mia vita di fare il signo della mia città, mai però per quello sono fortunato mai avrei pensato di fare il presidente dell'Aeroporto mai avrei pensato di fare il presidente del Calcio Pala tante cose, vuol dire essere fortunati è una vita fortunata è stato presidente che andava all'aeroporto anche su un anno solo che è proprio nel periodo un anno solo in quel periodo che c'è stato lei l'orologio che c'era sulla torretta funzionava perfettamente di solito quando non c'era lei segnava sempre orari ho avuto tante quelle esperienze in mia vita fantastiche di grande distribuzione non solo sport perché ho grande fortunato mi consiglio veramente fortunato un uomo molto fortunato questo è sono felice non so sicuramente anche io no, la mia domanda è se in tutta la sua vita ha avuto qualcuno magari che si è arrabbiato no, no, no difficilmente dico senta, come presidente ha citato molte cose che è presidente della provincia adesso e come sta andando? ah sì, presidente della provincia insomma sono avete stanziato molti soldini proprio ieri abbiamo anche la fortuna di avere delle risorse che vanno investite sicuramente in tutta la provincia ovviamente servirò molte più risorse però rispetto agli altri anni abbiamo qualcosa di più merito del PNRR famoso in più devo dire che la provincia finora è stata un po' bistrattata adesso lascio davvero l'interno prima davvero dell'esterno specialmente il personale ho trovato grande qualità del personale della provincia dirigenti funzionari e pensate che una volta erano quasi 600 persone oggi sono 204 persone per cui va investito nel personale nella qualità e nel numero del personale se no non si riescono a fare cose pensate che la provincia siamo 900 mila persone sono 102 comuni per cui una provincia importante io veramente io non riesco a dedicare tutto il tempo che dovrei dovrei dedicare molto più tempo non ce la faccio però ho la fortuna di avere un coordinamento dei sindici che mi aiutano a fare tantissime cose per cui non c'è lite non c'è discussione all'interno sono sereno veramente anche ieri sono cose molto veloci perché tutti stanno lavorando per il territorio a me fa piacere litigare per motivi politici non sono capace non c'è almeno la cultura per fare queste cose no stavo guardando sindaco il telefonino perché per me sono quasi un milione gli abitanti di Padova provincia 920 mila sono sbagliato adesso mi ricordo non c'ho il numero esatto perché io ricordo che moltomente saranno diminuiti però avevo un dato sono comunque tanti però mi sembrava che era 930 mila 28 mila per esattezza erano 970 980 era la prima città ovviamente compresa la provincia più grande del Veneto come abitanti quindi era superiore che a Verona c'è Padova era superiore che a Verona adesso non so a Verona abbiamo un territorio veramente incredibile faccio una domanda così si dice che nel Veneto ha sette province e le due che praticamente hanno un'importanza sotto l'aspetto economico sociale tant'altro sono due Verona e Padova è d'accordo in questo? no sono tutti importanti mi dispiace no importante sì ma che si elevano sono cose diverse sono sette province ognuna ha la sua peculiarità nel caso nostro è veramente una provincia importante pensate abbiamo delle cose incredibili tipo Abano Montegrotto abbiamo i Colli Ucani che sono splendidi è un territorio ovviamente che non conosco bene obiettivamente onestamente però è un grande territorio che può essere sviluppato qui in collaborazione in maniera importante poi abbiamo Venezia Venezia diciamo Venezia Venezia no no certo io dicevo come sotto l'aspetto commerciale economico capito penso che anche la parte logistica per quanto riguarda Padova Padova e provincia sia fondamentale siamo messi in un asse strategico non l'avevo capito siamo messi in un asse strategico importantissimo sia Padova che Verona Padova è molto più baricentrica devo dire che stiamo guadagnando anche qualche posizione rispetto a Verona sotto tanti aspetti turismo non voglio togliere niente Verona c'è un segno con amico per cui assolutamente però sono grande grande realtà ho sempre sentito dire che le due città che dirigono il Veneto che sono economicamente sono le più importanti Verona e poi Padova è una bella responsabilità senta ho molte cose da chiedere perché non essendo venuto nelle puntate precedenti per motivi ovviamente di lavoro non ho potuto chiederlo al vice sindaco glielo chiedo a lei allora iniziamo 5 milioni lei aveva bisogno di soldi diceva abbiamo bisogno di soldi perché altrimenti siamo in difficoltà come il Comune lo Stato sembrava le dessero 5 milioni inizialmente la richiesta era questa invece le danno 1 milione e 8 com'è la situazione lì non è esattamente così mi racconti nascosto in finanza precedente abbiamo ricevuto dal governo 5 milioni di euro quest'anno abbiamo ricevuto solo 1 milione e 8 e così allora non ho chiesto è ricevuto nel passato rispetto a questo all'attuale governo di conseguenza più abbiamo quasi il doppio del costo dell'energia elettrica in conseguenza il bilancio che andremo a provare il giorno 30 ha una mancanza di circa 10 milioni abbondanti di euro 10-11 milioni di euro perché per questi motivi chiaramente siamo un bilancio che è in sofferenza perché lo abbiamo provato perché andremo a provarlo a fine mese io speravo che arrivasse qualche risorsa qualche aiuto purtroppo non è arrivato ma non ne faccio una colpa perché siamo in una situazione difficile anche sotto rispetto al paese per cui io spero che arrivi un po' alla volta qualche aiuto però so che la situazione dei debitori dello Stato italiano è importante non invidio la premia il primo ministro il presidente Meloni è una situazione difficile che devo dire onestamente sta tenendo anche il punto io non faccio discorso politico l'ho già detto tante volte sta facendo il suo mestiere è difficile quello che sta facendo sicuramente perché un discorso fare campagna elettorale lo sappiamo tutti un discorso può affrontare la realtà bisogna essere responsabili certo prima di andare a leggere i primi quattro messaggi sindaco oggi leggevo nei social guardavo nei social l'opposizione è andata a Roma si è trovata a Roma con Salvini per mettere i parenti in difficoltà per quanto riguarda le due linee del tram il cittadino padrono deve preoccuparsi in tal senso oppure no io sono esterefatto in questa posizione francamente sono all'invito che io capisco l'opposizione fare il suo mestiere l'opposizione ma togliere il SOS APAL così importante vuol dire la viabilità della città e della periferia degli altri comuni togliere il lavoro per fare l'opposizione politica io penso sia veramente una cosa che io non riesco a capire io lo trovo veramente un errore politico pazzesco quello che hanno fatto io non farei mai una cosa del genere andare a penalizzare la città in termini economici per fare l'opposizione politica non so se l'hanno valutata bene però io sono abbastanza tranquillo francamente ma io sono tranquillo ma potrebbe esserci questo non credo proprio sono stati già ordinati i tram sono stati appaltati i lavori stai scherzando vuol dire corti di conti vuol dire follia non ci pensano fanno il loro lavoro per carità stavolta un po' esagerato io penso che sotto l'aspetto immagine diciamo che il cittadino pro tram usiamo questo termine cittadino padovano non può dover preoccuparsi per questa io non sono preoccupato perfetto non sono preoccupato è la cosa io capisco c'è il comitato non tra in continuazione vogliono il tram io sono convinto non è una scelta politica è una scelta strategica io penso che sia padova cambierà in maniera radicale le tre linee tram porteranno qualcosa come 20 milioni di persone vuol dire che cambierà esattamente esattamente la viabilità il discorso dell'inquinamento cambia padova uno può andare da un qualsiasi posto di padova prendere il tram il tram la differenza delle solite cose che dite l'autobus elettrico anche noi riveliamo l'autobus elettrico non c'entra niente sono due cose diverse la capacità sono due cose diverse un discorso è dire passa l'autobus tra 25 minuti un discorso è scendere in strada passa l'autobus passa il tram perché so che ogni 4-5 minuti sono due cose nettamente diverse faccio fatica a capire queste cose nel senso dell'opposizione per carità ognuno è responsabile e poi risponde all'elettorato e si vede come ha risposto già due volte no no certo questo non è dubbio era perché nel frattempo le ho fatte questa domanda sindaco perché è cambiato il governo e ovviamente il governo c'è una parte politica che è l'opposizione qui a Padova sono andati a Roma per contestare appunto il tram per cercare di mettere dei paletti chiedevo a lei ovviamente per domanda da parte dei cittadini se devono preoccuparsi oppure sono cose che l'opposizione fa come fa di consueto insomma tutto qui e non sono assolutamente preoccupato non risponde poi Padovani quando è ora in termine elezioni hanno già risposto due volte è in maniera chiara andiamo a leggere i messaggi che sono arrivati cominciamo con il primo ci sono lavori previsti nel cavalcavia stazione quando saranno fatti i cavalcavia stazione questo è un grosso progetto che sarà fatto dalle ferrovie dello Stato entro sei anni cinque sei anni un progetto che costrerà oggi a prezzo di oggi sono 20 milioni di euro fatto a riferire dello Stato già progettato da loro sotto l'aspetto non piace molto a noi sotto l'aspetto estetico stanno ridendo il progetto pensate che cosa vuol dire rifare Ponte Borgomagno perché viene rifatto di base perché non passa l'altra luce da sotto per cui bisogna rifarlo pensate che ci vorrà quasi un anno per rifarlo lavorando in maniera importante vuol dire che i trasporti non funzionano tipo tram ne ho trovato qualche via alternativa sostitutiva però non c'è niente da fare l'altra luce arriverà quando sarà fatto il Ponte Borgomagno non passa sotto perfetto l'altra domanda Elisabetta gli altri sono già in bilancio per quanto riguarda gli altri ponti sono già in bilancio per il 2022 altra domanda e sono già in gara da palto trapezo certo buonasera verranno colorati i due ponti di volta Barozzo e Quattro Martiri io ci spero ogni volta che passo mi invergogno ci spera ci spero solo a bilancio solo a bilancio solo a bilancio solo a bilancio sono a bilancio sicuramente anche perché veramente mi imbarazza quando passo sui ponti sono veramente brutti mi scusi a bilancio cosa vuol dire mi scusi l'ignoranza che vuol dire che ci sono le risorse questo l'ho capito ma cosa vuol dire in tempo pronto non rispondo a queste domande non sono in grado di rispondere non sono in grado di rispondere quindi non mi frega più ogni volta non lo so esattamente non lo so mi fa sorridere è una domanda se sono a bilancio verranno fatti fra un anno due anni no entra un anno sicuramente basta più un anno anche questo vi interrompe la viabilità vi ho sabiali vi ho verniciali e sarà un anno e mezzo noi abbiamo del PNRR abbiamo tantissime risorse e siamo in grossa difficoltà per mettere a terra tutto nel senso siamo personale se le tecnici e gli geometri i tempi posso anche interloquire con lei scherzosamente delle volte mi è sorrida quando mi dice non ho la data perché poi le farò la domanda che la data me l'ha data lei anzi mi ha ripreso diverse volte in quella data parla delle piani no no andiamo parla delle piani parla delle piani con le domande ho parlato oggi con mica lì con le domande con le domande poi i messaggi poi le chiedo anche delle piani i messaggi oltre al marciapiede vicino alla coppia della pace manca anche la pista ciclabile si può provvedere? si stanno già provvedendo in termini di progettuali si vero? viene viene realizzato cominciando i lavori tra poco per quanto riguarda la IFIP può dire l'area di fronte a chiedere la pace è già previsto rifacimento totale sia parcheggi che studentato RSA per persone autonome è già tutto previsto andiamo con l'altro messaggio il quarto Elisabetta tante troppe buche in via Boccaccio consiglio di passarci per rendervene conto e di intervenire grazie domani provvedo sicuramente andremo a chiudere le buche ovviamente dobbiamo aspettare per asfaltare in maniera seria dobbiamo aspettare la temperatura diversa cioè siamo a marzo aprile però per quanto riguarda le buche domani provvedo grazie della segnalazione io non lo faccio retto della piani perché è stata una domanda che non le ho fatto io e lei mi ha sorriso quel giorno di tanto tempo fa e mi ha detto perché non mi chiede della piani e io adesso puntualmente a domanda e ovviamente non posso non fargliela e mi ha detto che ad aprile i lavori sono finiti e le chiedo siamo già quasi a fine gennaio devono ancora iniziare e quindi bisogna è composto la curva a vari componenti in termini di lavoro uno l'abbattimento della curva della tribuna insomma della tribuna della curva sì questo è banale facile sono gruva posta che mangiano questo è facile bisogna rifare bisogna stominare il canale fare la pista ciclabile fare il famoso riprendere un attimo la curva vecchia la tribuna vecchia che vuol dire sì sì ma già ha spiegato tutto lei solo ha detto io a precisa lei me l'ha spiegato talmente bene che poi le ho chiesto anzi non gliel'ho chiesto io a fine aprile io l'ho dato anche maggio verranno aprile, maggio, giugno sono fatti ma la curva la curva pista ciclabile sono tante componenti sì parlavamo finito il lavoro tutto lei mi ha detto fine aprile no parlavo solo della curva dopo c'era il somminamento del canale la pista ciclabile è un po' complicato però ne esce una cosa molto positiva molto bella sono d'accordo ma mi lasci sorridere perché è stata una sua richiesta e ogni volta perché poi lei poi con me non fa domande precise con lei mi dà le battutine allora io le ricordo non fa domande precise curva la cosa strominamento del canale pista ciclabile sono tante componenti recensione è diventato un bravo politico lei mi aveva detto sagomatura del terreno mi aveva detto fine di lavoro ma mi aveva detto fine dei lavori però per dire oggi le ricordo perché abbiamo scommesso tutto qui e c'è la rincessione io con lei dico sempre e lì c'è il facile va bene andiamo in pubblicità e lì c'è la rincessione e lì c'è la rincessione